E' in arrivo l'appuntamento con la quinta e ultima giornata ecologica della stagione, domenica stop al traffico privato all'interno dei confini della fascia verde per 9 ore, al mattino dalle 7.30 alle 12.30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30. Come di consueto sono previste alcune deroghe, potranno ad esempio circolare liberamente le auto a benzina Euro 6, quelle elettriche, ibride a GPL, a metano, b-fuel, via libera anche alle auto con contrassegno o disabili e ai mezzi dei servizi in sharing. Complessivamente sono oltre 30 le deroghe previste, sono consultabili nell'ordinanza pubblicata sul sito comune.roma.it. La mappa della fascia verde invece è su romamobilità.it